Road 2, Inter-Roma, domani big match ore 18, ieri ho fatto il gameplay con il football 2023, andate a guardarlo perché è già online, via! Buonasera ragazzi, oggi in old style, in auto, perché poi so già che poi lo faccio troppo tardi, lo faccio adesso, così sono circa 24 ore dalla partita, Inter-Roma, allora, allora, si torna il campionato, quante notizie di cui io non ho fatto video, lo faccio tutto adesso, vi dico i miei pensieri, perché è successo di tutto, non è stata giocata nessuna partita da parte dell'Inter, da parte di altre squadre, da parte dei nazionali, è successo di tutto, di tutto, tra lo Zang Vattene della Curva Nord, tra le notizie che Zang ha messo i 100 milioni, ha investito nella società, poi ha messo, cos'è che è successo ancora, non mi ricordo, tante di quelle cose sono successe, a livello extra calcistico, nel senso non giocato, che non si capisce più nulla, cosa penso io di Zang, dicendole in breve, sarebbe bello vendesse, sarebbe bello ci fosse un arabo qualsiasi, che abbia un po' di soldi che li sganci, quello sì, sicuro, perché non ne possiamo più di avere questi limiti economici, perché comunque non c'è scampo, sembriamo imprigionati nei nostri limiti, non può vendere un giocatore in più, che poi se no, vedi, Lukaku, e mi collega Lukaku, all'infortunio di Lukaku, infortunato, salta la Roma, salta forse anche Barcellona, tre attaccanti abbiamo adesso, come la mettiamo? Martínez è appena rientrato dall'Argentina, con la nazionale, Geko Idem, anche lui è andato in nazionale con la Bosnia, ha giocato con la Bosnia, non lo che poi la gente si stufa, c'è qualcosa, non lo so se a Curva Nord ha avuto delle notizie, ma che la società sarà in vendita non lo saprà nessuno, almeno, non so se entro quest'anno, ma dubito. Altra notizia, sponsor, il main sponsor della maglia, Digital Beats, entro ottobre non ci sarà più, quindi anche lì, gente che non paga, veramente, tutto all'Inter succede, tutto all'Inter, è una cosa incredibile, è una cosa incredibile, veramente, senza soldi, sponsor che non pagano, stava così bene quando c'era Pirelli, vent'anni, trent'anni, sempre quello c'è stato, adesso cambierà sponsor tutti gli anni, maglie da cambiare, io già così mi incazzo, perché veramente, vabbè, è uno sponsor del cavolo, chi se ne frega, però, dà fastidio, dà fastidio, uno che prende la maglia a lui, appena uscita, come sottoscritto, ad esempio, si trova con la maglia già vecchia, è lì dà fastidio, capitano, è cascato tutto, capita di tutto, capita di tutto, veramente, siamo stufi, ma è ovvio che poi uno dice Zang Vatne, quello, quella, è cascato tutto, a una certa, poi uno, si stufa, perché non vede futuro in questa Inter, e i tifosi, ovvio che si incazzano, ovvio che si incazzano perché ci sono troppi problemi, troppe cose che non quadrano, ora, parlando di Inter-Roma, arriviamo a una situazione in cui entrambe le squadre non sono messe bene a livello di classifiche, dei risultati, tutte e due si devono riscattare, vediamo Inzaghi cosa si inventerà, anche Brodo è disponibile, anche lui ne avrà per un mese, o chissà quando, quindi praticamente noi fino a 2023 Brodo non lo vedremo, perché adesso passa un mese, poi c'è il Mondiale, ce lo siamo giocati, quindi, caro Inzaghi, abbiamo preso Aslani, vedi di metterlo, non mettere Gagliardini, per favore, per favore non mettere Gagliardini che poggeriamo soltanto le cose, per favore, metti Aslani al posto di Brozovic, che tanto il suo ruolo è quello, abbiamo preso apposta, senza discussioni, poi le fasce, fai cosa vuoi, Di Marco, lì, vediamo un po', non so se sarà disponibile, fatto sta che, sono Lukaku, preoccupante, perché anche lui rischiamo di vederlo poi a gennaio, e praticamente, siamo senza un attaccante, ed è problematico, problematico perché adesso ci sono partite ogni 3-4 giorni, c'è Barcellona martedì, poi c'è sabato un'altra partita, o Sassuolo, se non sbaglio, il secondo tour de force dopo la pausa nazionale, fino ad arrivare ai mondiali, vedremo, vedremo ragazzi, ora io non so se essere positivo o negativo, secco di essere realista assolutamente, ovviamente dobbiamo sperare, sperare che i giocatori non siano troppo, come posso dire, coinvolti nelle vicende societarie, ma adesso si parla anche di continuo, anche di screener fino a gennaio, rinnova, non rinnova, si vende, non si vende, insomma ragazzi, queste due settimane sono state veramente più, poi abbiamo perso l'Udinese, quindi pesanti, pesanti, nel nostro punto di vista, veramente è successo di tutto, parla il campo, domani vedremo se arriverà una vittoria convincente, speriamo in bene, lo spero, perché non possiamo rimanere già perdi con l'Udinese, perdi con la Milan, perdi con la Lazio, perdi con il Bayern Monaco, contro la Roma, che è una squadra comunque di livello alto rispetto a Salernitana, rispetto a Lecce, compagnia bella, dimostrazione ennesima, prova del 9, che domani dobbiamo assolutamente vincere, non perdere, cioè per quanto meno pareggiare, anche se pareggio in mezzo a sconfitta, ma almeno non perdi, perché la situazione è questa, perché con una squadra un po' più forte delle neopromosse, di quella di metà classifica, pam, arriva la sconfitta, proprio sicura, 3 gol, subisci 3 gol, ne fai 1 o 2, ma comunque subisci 3 pappine, vediamo domani come andrà, perché sicuramente non sarà la Roma dell'anno scorso, ma comunque è una Roma anche non messa benissimo, quindi sarà, secondo me, una partita equilibrata, speriamo in bene, arriverà una vittoria per noi, e stiamo a vedere, ragazzi. Se me forse Inter, scrivete la canale, mi raccomando, scusatemi, sono un po' arrabbattato, ma poi domani video classico con sfondo classico, sperando di non fare sfoghi ulteriori, ma vedremo al mese prossimo, domani è 1 ottobre, quindi il secondo Tour de Force sagionale inizierà prima dei mondiali maledetti di Qatar. A presto, ancora Forza Inter, e buon weekend, ci vediamo domani, ciao!